. 90 special con Nicola Savino su Italia 1, ecco gli ospiti e tutti i volti fissi . Come sarà 90 special che ne sanno i 2000, il nuovo programma di Italia 1 in onda da mercoledì 17 gennaio in prima serata con la conduzione di Nicola Savino, affiancato da Ivana Mrazova e Katia Follesa. Ecco tutte le anticipazioni tra cast e i contenuti della trasmissione. . 90 special, parla Nicola Savino. Savino, intervistato dal tv Sorrisi e Canzoni, dichiara, Sarà un programma nostalgico ma non irridente. Non ci saranno meteore, non ci sarà il famoso quando non era famoso. . Sarà la celebrazione di un decennio in cui, televisivamente, la Rai è stata colta di sorpresa, spiazzata. . . 90 special, anticipazioni sugli ospiti e su cosa si vedrà. . . Ci saranno diverse immagini di repertorio, dal karaoke di Fiorello a Paolo Bonolis nella telefonata cult con i fratelli Capone a Tira e Molla. . In studio il camper di Stran Amore. . . . . . . . . In questa puntata interverrà Giovanotti che canterà Asso, la sigla del telefilm Classe di Ferro. E poi Daniele Bossari, Luca Carboni che duetterà con Tommaso Paradiso, Max Pezzali, Eiffel 65. Il Hungax farà una rap battle con Savino. . Volti fissi? Oltre alla Mrazova e alla Follesa saranno presenti Cristiano Malgioglio, farà delle entrate in scena memorabili, Max Novaresi, racconterà aneddoti e spiegherà il significato di alcune parole di quel decennio, Michele Cucuzza e Ruggero dei Timidi, porterà giochi e souvenir del periodo. . Il retroscena sulla telefonata dei fratelli Capone a Tira e Molla . . I fratelli Capone, due pesci vendoli di Santa Maria a Capo a Vetere, fecero impazzire Paolo Bonolli Satira e Molla nel tentativo di tirare fuori la parola a Fantini, tra cavalli da cercare in campagna e surreali cavalieri sardi intenti a fare il formaggio sul dorso di un equino. . Qualche tempo dopo si scoprì che in realtà lo sketch fu realizzato come scherzo a Bonollis in occasione dell'1 grado aprile. . .